Non mi scrive più nessuno. Babbo, non mi cade in depressione. Dammi del tu. Hai mai provato a regalare due Ferrari? Che lusso sfrenato. E otto cucine stavolini? Viene tutto più buono. E 300 Enduro Vivi? Guarda che numeri. Ma dove le trovo? Regalami le gatti, demotivato miscredente. La fortuna lo sai Come le gatti è più dolce che mai Come le gatti, demotivato miscredente.